Una giunta regionale ad andamento lento, anzi addirittura slow, così la definisce l'ex assessore al bilancio della Regione Abruzzo Silvio Paolucci. Se l'esecutivo targato Marco Marsillo non approverà subito la delibera del conto consuntivo 2018, scatterà automaticamente il divieto di ogni assunzione e resteranno vacanti alcuni settori considerati strategici per l'amministrazione regionale. Nei fatti la Regione avrà un blocco di alcuni mesi nel quale non potrà riformare la propria struttura burocratica perché non potrà per esempio coprire i vari servizi vacanti assumendo o facendo dei comandi per i vari dirigenti. Parliamo di servizi che hanno un impatto con la cittadinanza perché sembrano così distanti ma in realtà parliamo della scopertura dei tanti servizi che riguardano la sanità dal farmaceutico all'economico finanziario per arrivare alla sanità digitale, ancora l'urbanistica, la pianificazione territoriale dei trasporti, dei lavori pubblici, i bandi europei. Ecco questo impatterà molto con la cittadinanza per questi prossimi sei mesi e da questo punto di vista significa quasi perdere un anno intero di governo. Ecco perché secondo me si è fatto un errore. L'altro errore è legato ai manager della sanità. Noi abbiamo lasciato due aziende con molta correttezza. Se vogliamo quando ci insediamo noi ci siamo trascinati i manager che avevano nominati loro per circa un anno e mezzo o due. Invece al loro ingresso, all'ingresso del governo del centro-destra, del nuovo governo regionale avevano due manager da nominare e a 70 giorni non sono stati ancora nominati. Non è neanche stata pubblicata la delibera, la determina della commissione che dovrà valutare i curricula che sono pervenuti. Da che cosa dipende questa lentezza di cui lei parla? Io penso che sia una giunta davvero lenta a partire. Io l'ho definita anche la giunta slow con un termine più inglese. Insomma sostanzialmente una giunta lenta ma manca l'indirizzo. Se uno dovesse dire anche durante il dibattito dell'insediamento del nuovo presidente, del nuovo governo regionale quali fossero gli obiettivi dei 100 giorni, a quella risposta, a quella domanda non mi è pervenuta una indicazione da parte del presidente Marsiglio. Se mancano gli indirizzi, se mancano gli obiettivi dei primi 100 giorni, gli effetti poi sono questi. Che si naviga a vista e quindi su scelte fondamentali non si è impattanti come si dovrebbe essere all'inizio di una legislatura nuova. Grazie a tutti.